Massarosa è nota per le sue dolci colline, le pievi romaniche, i concerti estivi per il suo cibo, nonché per essere considerata la città dei fiori di loto. Uno scenario meraviglioso che sembra appartenere a un'altra realtà, a una fiaba. La piantagione si estende per circa 70.000 metri quadrati tra la via sarzanese e il camminamento che inizia dalla stazione di Bozzano e arriva a Massarosa, regalando ai visitatori uno spettacolo davvero mozzafiato in una delle più importanti zone umide della nostra Versilia. Sì, veramente, è uno spettacolo e c'è tantissima gente che viene da ogni parte d'Italia per vedere questo meraviglioso campo di fiori di loto, uno spettacolo. Siamo in un paesaggio che vederlo in Versilia fa strano perché ricorda molto l'Oriente, ricorda l'Oriente e poi anche il significato stesso del fiori di loto che ritrae un po' la purezza diciamo della vita, del significato anche della rinascita. Il momento più spettacolare della fioritura a Massarosa avviene a luglio. Il paesaggio si colora di tinte rosa e magenta e tutto intorno l'aria si riempie di un meraviglioso profumo, un incanto per gli occhi e per l'anima. Pochi sanno che questo fiore è anche commestibile. Nella cuscina orientale si fa largo uso dei tuberi e dei semi come alimenti, mentre le foglie e i petali sono usati come complementi. Le foglie sono idrorepellenti, l'acqua non le bagna ma scivola via sulla superficie come una cascata di perle. Il fior di loto viene venduto come fiore ornamentale e viene venduta sia anche la foglia sia lo stello che sarebbe quello che rimane post fioritura e viene utilizzato per delle composizioni floreali.